Siamo in compagnia dell'Avvocato Marco Rosignoli, Presidente di Aeranti Corallo. Aeranti Corallo raggruppa oltre 320 emittenti locali nel nostro Paese. Avvocato, recentemente ci sono stati i provvedimenti legislativi che hanno penalizzato proprio il settore delle televisioni locali. Che cosa è successo? Sì, tutte le tv locali che operavano in analogico sono passate al digitale e nelle 10 regioni che sono state già interamente digitalizzate sono tutte diventate operatori di rete digitale. Quindi fino a oggi le cose si sono svolte nel senso che la transizione ha interessato a pieno anche il settore televisivo locale. Tuttavia la legge di stabilità per l'anno 2011 ha recentemente sottratto 9 frequenze, 9 delle 56 frequenze complessivamente previste dal nostro spettro radioelettrico e le ha sottratte alla diffusione televisiva, destinando queste frequenze ai servizi di diffusione mobile a larga banda. Queste frequenze verranno assegnate sulla base di una gara con un'asta. Questa riduzione di spazi frequenziali è stata però posta a carico esclusivamente del settore televisivo locale. Su questo dobbiamo rilevare che quando le frequenze vengono assegnate alle tv locali spetta un terzo delle risorse complessivamente disponibili. Non è quindi accettabile che quando gli spazi vengono ridotti il ridimensionamento gravi esclusivamente sul settore televisivo locale. Occorre peraltro considerare che mentre alle televisioni locali sono state tolte queste 9 frequenze, e allo stesso tempo attraverso un beauty contest, beauty contest è una gara senza oneri, senza costi per gli aggiudicatari della gara, attraverso questo beauty contest stanno per essere assegnate ulteriori 6 frequenze alle trasmissioni televisive nazionali. Addirittura alcune di queste frequenze potrebbero essere assegnate a televisioni nazionali che sono già titolari di altri multiplex di trasmissione. In questo modo sostanzialmente il sistema oligopolistico che ha caratterizzato il mercato analogico negli anni verrà perpetuato anche negli scenari digitali. La manovra economica varata dal governo e prossimamente dovrà essere approvata dal Parlamento contiene delle norme che non piacciono alle emittenti televisivi. Di quali norme si tratta? La legge di stabilità ha previsto il riconoscimento di indennizi a favore delle televisioni locali che dismetteranno le frequenze proprio per lasciare spazio, come dicevo prima, alle trasmissioni mobili di larga banda. Tuttavia questi indennizi sono molto irrisori e in molti casi non sono in grado neppure di coprire i costi che le imprese hanno da ultimo sostenuto per il passaggio al digitale. Noi abbiamo chiesto che la problematica trovi soluzione recuperando alcune delle frequenze di trasmissioni a favore del sistema televisivo locale e soprattutto anche incrementando gli indennizi per coloro che dovranno dismettere le imprese e quindi anche con la dismissione delle imprese ci saranno anche molti posti di lavoro che dei lavoratori delle televisioni locali non avranno più questi posti di lavoro. La manovra finanziaria va tuttavia in direzione assolutamente opposta perché non risolve il nodo delle frequenze, prevede un modestissimo incremento degli indennizi che restano quindi assolutamente irrisori e introduce addirittura una limitazione dei poteri dei tribunali amministrativi regionali, dei TAR, per giudicare le eventuali controversie in questa materia e prevede la disattivazione degli impianti, la disattivazione coattiva degli impianti, per coloro che non verranno dismessi da parte delle televisioni locali. E dunque in questo contesto generale voi che cosa proponete? Sì, nel momento in cui l'obiettivo del governo è quello di approvare entro la settimana questa manovra finanziaria per fronteggiare l'emergenza economica che è in atto, noi riteniamo che occorrerebbe cancellare completamente queste inaccettabili norme, quindi espungerle completamente dal provvedimento normativo e occorre infatti che il governo comprenda, a nostro parere, l'importantissimo ruolo che hanno le emittenti locali, sia come organi di informazioni sul territorio, sia come volano dei consumi e quindi dell'economia, delle piccole e delle medie imprese. Senza la pubblicità delle emittenti locali, le piccole e le medie imprese non riescono a far conoscere e commercializzare i propri prodotti e i propri servizi, con ogni evidente conseguenza quindi sul fronte dei consumi. Nell'ottica di una manovra finanziaria di emergenza, quale è inequivocabilmente quella attuale, il governo dovrebbe abbandonare la logica duopolistica del mercato televisivo, sostenendo le televisioni locali e con esse, insieme alle televisioni locali, sostenendo l'intero sistema delle piccole e delle medie imprese che rappresentano l'asse portante dell'economia italiana. Occorre inoltre ritornare alle modalità originarie del processo di transizione, che ha visto tutte le televisioni analogiche poter transitare a digitale a parità di condizioni. E questo sia nelle regioni che devono essere ancora digitalizzate, sia nelle aree del Paese che sono state già interamente digitalizzate, dove si rischia, procedendo in questo modo invece, di rimettere in discussione tutto ciò che è stato già fatto. Procedere in un modo diverso significa soltanto penalizzare enormemente le televisioni locali e penalizzare anche il pubblico degli utenti, anche perché le nuove regole causerebbero un inevitabile ritardo all'intero processo di digitalizzazione. Se le cose non cambieranno, molto difficilmente, infatti, in Liguria, in Toscana, nell'Umbria e nelle Marche, che sono le regioni che dovrebbero essere digitalizzate nel corso del corrente anno, dicevo, molto difficilmente in queste regioni potranno passare alla nuova tecnologia digitale nei tempi previsti. Bene, Avvocato, con la speranza ovviamente che queste richieste vengano accolte, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi.